ciao a tutti sorelle e fratelli caberisti siamo arrivati con angioletta e la sua mamma polignano a mare guardate che spettacolo non angioletta angioletta già è uno spettacolo a Comunque, proseguiamo la nostra camminata, andiamo a gioretta. Un po' piavante vedremo meglio l'insanatura del mare che arriva a bagnare questa splendida spiaggia molto famosa, piccola ma molto famosa. Scusate il vento ragazzi, qui soffia da morire, maledettamente.